Buona, adesso la giocata dell'Ascoli a dare in mezzo, rischia tantissimo Valiant Buon fangolo, vince a prolungare per Bellomo, attenzione alla sua forza in trenare Bellomo Bellomo ha la possibilità di calcio, e c'è ancora l'1-0, alla quindicesimo minuto la sblocca Salvatore Caturano Allora in mezzo, sbora, il conto è 2-0, Milano vince, Pecorini che si lancia verso l'area di rigore della Ternada, Pecorini Abinanti prolunga per Cerravolo, Cerravolo, che in trenare, Cerravolo! Calcia male Ma dai, se fallo, è il quarto cartellino distratto da Ripa verso un giocatore dell'Ascoli Attenzione Bellomo, Cerago, Amici, a destra, Amici, ci prova! Ce ne va Furlana, scambio con Navitale, Furlana, Gondo! Si dimora il gol dell'1-1 La frenata di Perez, che riesce a mantenere il controllo del pallone! Dice calcio d'angolo, Ripa! Poteva starci in rigore Bellomo, 3-2 in mezzo, Mazzone si ritrova il pallone tra le braccia Falletti, Falletti a buone, posizione regolare Falletti! Furlana, attenzione a Falletti, Falletti in mezzo! Pallone lisciato un po' da tutti Più occasione ancora per la Ternada Arriva!